Musica Praticamente tutti i giorni manifestazione di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone sia quando incontro per strada sia diciamo con i vari mezzi telematici i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale come potete vedere dall'immagine basta cliccare sulla campanellina ed è importante anche il like o l'unlike quello di Youtube perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana Si inaspriscono le cifre del Covid a Chioggia Ieri il sindaco Alessandro Ferro ha comunicato di aver ricevuto dall'ULS gli ultimi dati relativi al giorno precedente ovvero martedì 15 in città ci sono 584 positivi mentre sono 29 le persone ricoverate per il virus di queste 8 sono nei reparti dell'ospedale cittadino e 2 in terapia intensiva si tratta di una donna e di un uomo di circa 50 anni dall'inizio dell'epidemia sono 1289 gli ex positivi che si sono poi negativizzati e quindi guariti mentre ammonta 52 sempre secondo le cifre fornite al comune il totale dei decessi stupisce in particolare il numero di 20 associato a questa seconda ondata dal momento che le vittime circostanziate con le proprie generalità sono state fin qui 7 frattanto questa mattina il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha annunciato per domani la firma di una nuova ordinanza restrittiva che obbligherà i veneti dalle ore 14 di sabato dicembre fino al 6 gennaio a rimanere entro i confini comunali i negozi potranno si aprire fino alle ore 21 ma serviranno solo a chi abita in quel dato comune le deroghe sono concesse naturalmente per soli motivi di lavoro e sanitari lo stesso Zaia ha paragonato la disposizione a quelli in vigore fin qui nelle zone arancioni e attende comunque un riscontro da Roma quanto alla probabile emanazione di ulteriori misure emergenziali da parte del governo l'ex batteria San Felice a Sottomarina chiusa al pubblico dalla primavera del 2019 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento dei percorsi tornerà fruibile al pubblico a partire dal mese di febbraio 2021 la giunta comunale stamane ha infatti approvato la delibera che individua i nuovi orari di apertura in accordo con la proprietà, la Darsena Mosella che l'ha acquisita a seguito dell'avviso di asta pubblica nel luglio 2017 dall'Agenzia del Demanio l'ex batteria San Felice sarà quindi aperta nei mesi di febbraio, marzo, aprile, ottobre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18 da maggio a settembre a partire dalle ore 10 fino alle 12.30 e dalle 16 alle 20 mentre tra novembre e gennaio rimarrà chiusa per manutenzione nei giorni di lunedì e martedì la batteria non sarà agibile per effettuare le operazioni di pulizia e di sfalcio dell'erba l'accesso alla batteria sarà garantito, gestito e controllato con proprio personale dal soggetto attuatore, la Darsena Mosella anche al fine di evitare danneggiamenti e dati di vandalismo in questo luogo di interesse storico spiega il vice sindaco e assessore al demanio Marco Veronese verrà inoltre allestito uno spazio informativo all'interno e la partnership tra il comune e l'impresa assegneranno una borsa di studio annuale del valore di 2.000 euro al giovane che più si sarà contraddistinto per meriti sportivi o culturali i lavori di manutenzione straordinaria stanno volgendo al termine e una volta conclusi il collaudatore già nominato dal comune potrà effettuare i sopralluoghi per certificarne l'agibilità riteniamo, conclude il vice sindaco, che a febbraio 2021 tutto l'iter possa essere concluso e quindi ripristinato l'uso pubblico di quest'area di riconosciuto pregio storico e ambientale Attraverso una determinazione, il comune di Chioggia aderisce al progetto sperimentale regionale per l'assegnazione di risorse a sostegno della natalità ai sensi della legge veneta numero 30 del 28 maggio scorso A tale scopo, l'ente sovraordinato ha ripartito le risorse tra i comuni aderenti Chioggia, che è capofila del relativo ambito territoriale e sociale riceve poco più di 130.000 euro La somma verrà pertanto impiegata per la sperimentazione in questione avendo vincolo di destinazione quale assegno prenatale per le persone beneficiarie con garanzia di tempestività nell'allogazione della misura ai nuclei familiari aventi diritto Continua quindi la politica pubblica per favorire la natalità dopo le valigette e i kit distribuiti anche negli anni scorsi dal comune assieme al movimento per la vita Nell'ospedale di Chioggia intanto la quota di 500 neonati nel 2020 sta per essere superata Sono stati 15 a dicembre i parti nel reparto di ostetricia tre dei quali solo nella giornata odierna per un totale di 495 nell'intero 2020 La conferma del nosocomio clodiense quale centro nascite non è mai stata messa in discussione nonostante le regole regionali prevedono appunto 500 parti l'anno in una singola struttura per poterne usufruire anche negli esercizi successivi Grazie a tutti Il coronavirus ci ha insegnato che non c'è attività o professione sicura se non online ma come guadagnare online partendo da zero senza rischi E soprattutto Qual è il business online più adatto a te? Ciao Il mio nome è Antonio Vida e ho cominciato la mia carriera lavorativa come semplice impiegato guadagnando 1500 euro al mese lordi Ma grazie a internet sono diventato un imprenditore di successo Prima di trovare il metodo giusto per guadagnare online seriamente in maniera costante ho commesso tanti sbagli Ed è per questo che voglio condividere con te la mia esperienza Tu non dovrai impiegare tutto il tempo che ci ho messo io Posso mostrarti come iniziare a fare business online senza commettere errori anche se non hai nessuna esperienza specifica Da 5 anni aiuto persone come te ad iniziare il proprio business online con successo e senza rischi Te lo dico prima non esiste nessun metodo per diventare ricco nel giro di una notte Ma con serietà ed edizione anche tu potrai iniziare a guadagnare online seriamente in maniera costante Se hai voglia di imparare ed hai una mentalità aperta forse ti interesserà guardare il video dove ti spiego tutto nel dettaglio Tranquillo non ti preoccupare è gratis e senza impegno Però potrebbe cambiare la tua vita Ti darò gratuitamente delle informazioni che valgono decine di migliaia di euro L'intera mia esperienza di imprenditore online è contenuta in questo nuovissimo video webinar Ti spiegherò passo dopo passo vantaggi, rischi e costi di ogni business online oggi disponibile sul mercato E poi sarò a tua disposizione per scegliere insieme quello più giusto per te Fare business online oggi non è un'alternativa al lavoro tradizionale È l'unica scelta e lo sai bene Prima di lanciarti nel mondo del business online dedica qualche minuto a te stesso Per capire come funziona Guarda il mio webinar gratuito dove ti spiego tutto Non essere pigro Guardalo subito perché sarà disponibile solo per poco tempo Perché le informazioni contenute sono così preziose Che non possono essere lasciate accessibili a tutti troppo a lungo Se pensi di meritare una vita migliore non perdere altro tempo Clicca il link qui in basso Grazie a tutti Nuovo abuso edilizio in carico all'impresa Tetis Aquacoltura Società agricola che si occupa della semina e della coltivazione di prodotti ittici In special modo bivalvi Entra un fondo ubicato a Brondolo in prossimità della strada 309 Romea Un'ordinanza del dirigente al settore urbanistica del comune di Chioggia Gianni Favaretto Intima all'azienda di demolire e rimettere in pristino entro 90 giorni Due serre ad arco, un marciapiede, un box prefabbricato, una baracca in legno Piattaforme per l'allevamento e bonifiche in area demaniare Con relativo ampliamento della metratura Si tratta di un aggiornamento della vicenda che aveva visto coinvolta la stessa Tetis tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019 Quando venne contestato dall'ente l'anomalia edilizia riguardante le vasche di allevamento e la copertura delle serre L'impresa aveva rimosso l'indebito chiedendo l'archiviazione del processo di abuso e sanatoria nel marzo 2019 Ma a quanto consta al comune, in seguito a successive ispezioni datate settembre 2020 L'ufficio contro gli edilizia ha riscontrato in loco la presenza del box e della baracca Mentre la polizia locale ha accertato la presenza di nuove opere non autorizzate Ovvero l'ampliamento, una tettoia, due rampe e un marciapiede Il provvedimento è stato emanato nei confronti dei proprietari del terreno, Romeo Mantovan e Sandra Doria Oltre che di Gianluigi Lago, legale rappresentante protempore della Tetis Aquacultura Società agricola con responsabilità limitata Nell'impresa è coinvolta in qualità di consulente anche Paola Landri Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle e moglie di Lago Biologa e ricercatrice nel ramo Aquacultura Biologa e ricercatrice nel ramo Aquacultura Il volontario arriva nelle case di Chioggia a portare i doni ai più piccoli L'iniziativa è della Croce Rossa Italiana La cui sezione locale ha ideato appunto un servizio che supporta genitori e parenti Nella consegna dei pacchi regalo I volontari dell'associazione sono a disposizione previ appuntamento All'indirizzo mail giovani.chioggia.crivenezia.it Oppure attraverso Whatsapp al numero 388-999-4464 Il format Babbo Natale a casa tua è pronto a regalare una festa magica alle bambine e bambini della città Dopo la prenotazione i volontari contatteranno la famiglia per concordare le modalità del recapito A fronte di un'offerta libera per le attività della Croce Rossa Chioggiotta A fronte di un'offerta libera per le attività della croce Si avvia la conclusione e l'inchiesta sull'incidente che il 2 giugno 2019 Vide la nave da crociera MSC Opera, fuori controllo Finire contro la banchina di San Basilio a Venezia Dopo aver speronato il battello fluviale River Countess Cinque tra gli indagati patteggeranno Mentre per quattro sarà chiesta l'archiviazione Confermata l'importanza della consulenza voluta dalla Procura della Repubblica Che evidenziava le responsabilità del comandante della nave E assolveva i piloti dei rimorchiatori Angelina C e Yvonne C Impegnati in tutti i modi a limitare i danni causati dall'impatto Nessuno comunque andrà in carcere Perché le pene oggetto di patteggiamento sono sotto i sei mesi E saranno convertite in sanzioni pecuniarie A pronunciarci tra qualche mese sarà il giudice per l'udienza preliminare Basandosi sul quadro e sugli atti depositati dai pubblici ministeri Andrea Petroni e Giorgio Gava La questione economica invece, ovvero il risarcimento dei danni È già stata affrontata e risolta dalle compagnie e dalle assicurazioni La ricostruzione di quella che poteva essere una tragedia ancora più grave Conferma la causa della perdita del controllo della MSC Opera Ovvero l'avaria al quadro elettrico Che sovrintende al controllo dei giri dell'elica e del timone In cui è tante la catena di eventi Che secondo i consulenti della procura ha portato all'incidente L'allarme di malfunzionamento era scattato sulla plancia di comando alle ore 7.26 Quando la nave si trovava ancora fuori dalla bocca di porto del Lido Ed è stato ignorato dal capo elettricista, dal primo ufficiale di macchina e dal direttore di macchina Eppure, sempre secondo i consulenti, per ripristinare il quadro tecnico sarebbe bastato riarmare gli interruttori Eppure, sempre secondo i consulenti, per ripristinare il quadro tecnico sarebbe bastato dall'escrizio Grazie a tutti.